Una delle grandi caratteristiche dei sistemi basati su blockchain è l'uso degli smart contracts. Gli smart contracts sono essenzialmente regole applicate dalla rete, in particolare dai nodi della rete, che chiunque può eseguire sul proprio computer. In un senso più ampio, le transazioni bitcoin sono a loro volta una specie di smart contract. Un bitcoin può essere speso solamente dal suo proprietario, identificato tramite l'hash della propria cave pubblica, ad esempio il proprio indirizzo bitcoin. Una forma più complicata di smart contracts implementati sulla blockchain di bitcoin sono i multi signature addresses, gli indirizzi multifirma. Questi indirizzi, che iniziano con 3 anziché 1, esistono e vengono utilizzati da lontano 2012, 3 anni dopo la nascita di bitcoin. Quando si crea un wallet multifirma, è possibile definire quante firme dovrebbero esistere in totale e quante di esse dovrebbero essere richieste per effettuare una transazione. Il tipo di wallet multisig più generato è un portafoglio del tipo 2 su 3, il che significa che esistono un totale di 3 firme, di cui 2 necessarie per effettuare una transazione. La funzionalità è molto simile ai conti bancari che richiedono più firmatari. Però, poiché la blockchain non è costruita sulla fiducia, ma sulla criptografia e sul consenso, è impossibile imbrogliare gli altri e nessun ente centrale può arbitrariamente impossessarsi dei fondi. Ma per cosa può essere utilizzato un wallet multisig 2 su 3? 1. Maggiore sicurezza. 2. Come S-Row. 3. Per fondi aziendali. 4. Per autenticazione a due fattori. Maggior sicurezza. Se temi che il tuo computer o il tuo smartphone possano essere violati, puoi usare un wallet multisig 2 su 3 per aumentare la tua sicurezza. Il setup è molto semplice. Portafoglio 1 deve essere un wallet mobile senza backup. Il portafoglio 2 deve essere un wallet sul tuo computer, anche questo senza backup. E il portafoglio 3 deve essere un paper wallet posizionato in una posizione separata. Ma come utilizzarlo? Ogni volta che desideri effettuare una transazione, sarà necessario inizializzare la transazione con un dispositivo, ad esempio eseguendo la scansione di un codice QR sul telefono, quindi esaminando e confermando la stessa transazione sull'altro dispositivo. Nessuna transazione potrà mai essere effettuata con un solo dispositivo. Ciò significa che, anche se il tuo telefono o computer dovessero venire violati, i tuoi bitcoin non sarebbero in pericolo. Se il telefono o il computer si rompono o vengono persi, sarà comunque possibile recuperare i bitcoin grazie al paper wallet, per poi spostarli in un nuovo wallet. Se il paper wallet viene rubato, il ladro non può comunque avere accesso ai tuoi bitcoin. Gli svantaggi ci sono. Innanzitutto, se il computer e il telefono si rompono contemporaneamente, perderai i tuoi bitcoin. Puoi prevenire tutto ciò creando dei backup dei tuoi wallet decidali, se puoi con massima attenzione e insicurezza. Metti assieme due seed di backup nello stesso luogo solo se sei sicuro che sia un posto davvero sicuro. Escrow. Immagina che Alice voglia acquistare dei CryptoKitties da Bob tramite internet. Tuttavia, non ha mai incontrato Bob prima d'ora e non è sicura di potersi fidare di lui. Non vuole mandare per prima i soldi e Bob non vuole mandare per prima i CryptoKitties. Per risolvere il problema e consentire ad entrambi di effettuare lo scambio in sicurezza, possono creare un portafoglio multifirma con un deposito di terze parti. L'escrow, ovvero Emma. Il setup anche qua è semplice. Il portafoglio 1 è di Alice ed è un wallet sul suo telefono o computer con backup. Il portafoglio 2 è di Bob ed è sempre un wallet sul suo telefono o computer con backup. E il portafoglio 3 è di Emma, sempre un wallet sul telefono o computer con backup. Come utilizzarlo? Emma è una persona o un'azienda. Alice e Bob non hanno bisogno di fidarsi di Emma circa i loro soldi o il loro bene, ma hanno bisogno di fidarsi di lei in modo che non colluda con uno dei due partecipanti. Tutti e tre creano un wallet multifirma 2 di 3 e Alice invia i propri fondi nell'indirizzo creato. A questo punto Bob potrà constatare che Alice ha effettuato il pagamento. Non potrà più riprendere i Bitcoin inviati dopo che le merci sono state spedite, poiché ha solo una delle tre firme necessarie. Bob spedisce la merce e poco dopo viene recapitata da Alice. A quel punto entrambi possono liberare i fondi dal wallet multisig ed ineltrare il denaro a Bob. Se tutto va nel verso giusto, la presenza di Emma non è nemmeno necessaria, il che rende molto facile ed economico per lei fornire quel servizio, a differenza delle tradizionali soluzioni di deposito garanze bancaria. Nel caso qualcosa vada storto, Emma dovrà intervenire e formulare un giudizio. Potrà scegliere di schierarsi con una delle due parti o dividere i fondi in accordo con uno dei partecipanti. Tuttavia non potrà mai prendere i soldi autonomamente. Gli svantaggi sono che gli scroll sono molto utili in situazioni in cui i partecipanti non possono fidarsi l'un l'altro, come nel caso in cui tutti i partecipanti sono anonimi. Tuttavia in quelle situazioni non è facile accertarsi che Alice ed Emma non siano effettivamente colluse tra loro o che addirittura siano la stessa persona. Alice o Bob potrebbero anche provare a corrompere Emma. Fondi aziendali Una società che gestisce criptovalute potrebbe avere difficoltà a mettere in sicurezza i propri fondi in un wallet tradizionale a firma singola. Chi dovrebbe avere le chiavi del wallet? Chi dovrebbe autorizzare ad effettuare i pagamenti? Se le chiavi vengono replicate o passate di mano troppo spesso tra vari firmatari autorizzati, c'è il rischio che vengano violate o rubate. Se solo poche persone hanno accesso ai fondi, potrebbero diventare inaccessibili per colpa di un incidente. Il setup qua è molto semplice, come nei casi precedenti. Il portafoglio 1 è il wallet del CEO, dell'amministratore delegato, che deve essere senza backup. Il portafoglio 2 deve essere il wallet del contabile, anche questo senza backup. E il portafoglio 3 deve essere un paper wallet posizionato in una cassaforte tenuta in sicurezza dall'intero consiglio di amministrazione. Ma come utilizzarlo anche in questo caso? In questa configurazione, né l'amministratore delegato né il contabile possono scappare con i soldi dell'azienda. Il contabile può infatti preparare i pagamenti, firmarli e passarli al CEO, che li conferma aggiungendo la sua firma. Se uno dei due scompare o perde il proprio dispositivo, può riacquisire l'accesso ai fondi della società spiegando l'incidente all'intero consiglio di amministrazione e richiederle l'autorizzazione. Svantaggi? Sì. L'amministratore delegato e il contabile possono colludere tra loro e scappare con i fondi della società. Ma anche se non lo facessero, sarebbe meglio che non entrassero mai più nella stessa auto o salissero sullo stesso aereo. Se entrambe le loro chiavi diventano inaccessibili, i fondi sono andati. Autenticazione a due fattori L'autenticazione a due fattori su FAI non è comune per i wallet Bitcoin, ma rivalmente consigliata per gli account online come la posta elettronica o Austin Cloud. Con un wallet multifirma è comunque possibile attivarla ed usufruirne dei punti di forza. Il setup? Anche qua tre portafogli. L'uno è un wallet sul tuo computer senza backup. Portafoglio due il servizio 2FA online. Portafoglio tre un paper wallet nella tua cassaforte. Come utilizzarlo? Ogni volta che avvii una transazione sul tuo computer o telefono, la transazione deve essere firmata dal servizio online. Prima di firmare la transazione, richiederanno l'immissione di un codice da autenticazione a due fattori. Questo codice potrebbe essere generato sul tuo telefono, essere inviato per SMS o provenire da un dispositivo hardware. È possibile inoltre imporre limiti di transazione sul tuo conto o richiedere diversi livelli di autenticazione per trasferimenti diversi. Gli svantaggi anche qua ci sono. Se il servizio 2FA non è online o sotto attacco di DOS, i fondi non saranno disponibili fino a quando non sarà possibile trovare il paper wallet nella propria cassaforte. Se qualcuno entra in possesso sia del tuo dispositivo che del tuo paper wallet, sarai in grado di bypassare completamente il servizio 2FA. Tieni a mente comunque che l'utilizzo di un servizio terzo per il tuo wallet Bitcoin comporta implicazioni significative sulla tua privacy.